Musica Una spiaggia con sempre meno plastica. E' questo l'obiettivo fissato dal protocollo di intesa sottoscritto questa mattina dal comune di Jesolo con l'associazione Veneto Chioschi, i commercianti alimentari itineranti, De Maniali, Caid e Veritas. In sintesi il documento mira alla riduzione della produzione di rifiuti in plastica, soprattutto monouso e alla promozione di comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti di plastica. Il protocollo lascia ampio margine di intervento ai sottoscrittori per realizzare attività specifiche che vadano in direzione dell'utilizzo di materiali alternativi alla plastica per la distribuzione di cibo e bevande così come l'erogazione di bevande alla spina. Il protocollo ha una durata di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno. La sottoscrizione coincide con l'avvio di due iniziative sperimentali. La prima riguarda l'introduzione di tutti i chioschi della spiaggia di Jesolo di contenitori per cibi e bevande di materiali durevoli e riutilizzabili o alternativi alla plastica sia per il consumo sul posto che da asporto. La seconda è l'introduzione proprio al chiosco skipper di un primo erogatore di acqua alla spina. Chiunque potrà presentare agli addetti il proprio contenitore riutilizzabile come ad esempio una borraccia, chiedendo che venga riempita con acqua alla spina a un costo ridotto rispetto a quello previsto per le classiche bottiglie in plastica da mezzo litro. Sono positive le previsioni dell'occupazione alberghiera per Jesolo in quest'ultima terza festività, cara ai turisti tedeschi, il Corpus Domini. L'occupazione media sarà dell'85% con gli hotel 3 stelle e 3 stelle superior al 90%. Ciò significa che per il fine settimana si raggiungeranno punte da tutto esaurito. Il 42% dei turisti arriveranno dall'Austria, il 20% dalla Germania, il 16% dall'Italia e il 3% divisi tra Svizzera e Gran Bretagna. Sentiamo l'intervista al presidente AIA, Pierfrancesco Contarini. Le prenotazioni stanno andando in forma eccezionale, siamo verso il tutto completo, diciamo che qualche camera c'è ancora, però ci aspettiamo che da domani dopo domani la località sia al completo. Ecco, stiamo parlando di turisti prevalentemente di lingua tedesca. Sì, l'80% resta clientela di lingua tedesca proprio perché il Corpus Domini è una festa che loro vivono in maniera particolare con i quattro giorni a partire da mercoledì. inizia la festa e quindi la clientela italiana completa nel weekend, il sabato e la domenica, il tutto completo della località. In maggio ha avuto circa una ventina di giorni di brutto tempo, fra l'altro anche giornate continue, quindi non c'è stato il giorno sì e il giorno no, fra il bello e il brutto tempo. Questo penalizza fortemente il mondo turistico, la località, però abbiamo visto che appena torna il sole e questo determina soprattutto nel weekend il tutto esaurito. Autovie Veneto ha programmato nel fine settimana due interventi di manutenzione della pavimentazione in due notti distinte rispettivamente nei tratti Sanstino-Cessalto in direzione Venezia e San Donati-Piave-Sanstino in direzione Trieste dell'autostrada A4. Si tratta di attività che consentiranno di rendere ottimale l'asfalto nei punti in cui risulta più usurato e che verranno svolte nelle ore in cui, stando alle previsioni, i transiti risultano in calo rispetto al resto della settimana e soprattutto alle ore di punta del weekend. Tra le 23 di venerdì 9 giugno e le 6 di sabato 10 verrà chiuso il tratto autostradale tra gli svincoli di Sanstino e Cessalto in direzione Venezia, mentre nella direzione opposta verrà chiusa la corsia di sorpasso tra Cessalto e Sanstino di Livenza per circa 1,5 km in corrispondenza dell'intervento al chilometro 433. Tra le 23 di domenica 11 e le 6 di lunedì 12 verrà invece chiuso il tratto tra gli svincoli di San Donati-Piave e Sanstino in direzione Trieste. Nell'occasione non sarà possibile accedere all'area di servizio di Castaltra Sud. Chi al momento della chiusura si trova nell'area di servizio potrà riprendere la A4 in direzione Trieste attraverso la corsia non interessata dai lavori fino allo svincolo di Cessalto, dove poi dovrà uscire. È tornata nuova vita la sinagoga italiana, uno dei cinque edifici per il culto, la preghiera e l'insegnamento che impreziosiscono il ghetto di Venezia. La presentazione del restauro conservativo, reso possibile grazie al contributo di Save Venice, si è svolta mercoledì sera alla presenza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, del presidente della comunità ebraica Dario Calimani e del rabbino capo Avram Sermonetti. Eretta nel 1575, ultima in ordine di tempo delle sinagoghe costruite sotto la Repubblica di Venezia in Ghetto Novo, nel sestiere di Canareggio, è riconoscibile dall'esterno per le cinque grandi finestre ad arco che ricordano la scuola grande tedesca e per una cupoletta barocca che sovrasta l'abside. Nessun fasto ed esibizione erano consentiti all'esterno, ha ricordato Calimani, la bellezza si poteva esprimere solo all'interno. In questo modo lo spazio religioso convive con quello laico delle abitazioni circostanti e sottostanti, sopra invece c'è solo il cielo. Merita di essere ricordato l'esempio di questa comunità rispetto al tema dell'integrazione, ha detto Brugnaro. Gli ebrei sono stati rinchiusi, segregati e protetti dalla Repubblica di Venezia, ma nel tempo si sono conquistati il rispetto attraverso il loro operato e le porte del ghetto non sono state più richiuse. Questo esempio di intrampendenza, ha detto ancora il sindaco di collaborazione e di voglia di riconoscere nell'altro un arricchimento, può costituire anche oggi un esempio. Una persona di nazionalità cinese è stata fermata all'aeroporto di Venezia nei giorni scorsi per aver trasportato irregolarmente un grosso quantitativo di pesce e altri alimenti nei propri bagagli. A bloccarlo sono stati i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, assieme ai militari della Guardia di Finanza, a loro volta allertati dall'ufficio delle Dogane dell'aeroporto di Roma-Fiumicino. In base a quanto accertato, il passeggero proveniente con un volo da Pechino aveva imbarcato nella stiva dell'aereo una serie di trolle nei quali trasportava circa 100 kg di pesce fresco e altri alimenti in stato di decomposizione. Secondo il personale delle Dogane, la merce era destinata probabilmente alla commercializzazione. Come previsto dalle norme comunitarie e da quelle a tutela della salute pubblica, i funzionari hanno sottoposto a sequestro e alla confisca delle merce avariate consegnandole alla società di gestione dell'aeroporto per la loro distruzione. La normativa europea prevede un sistema di controlli da effettuarsi su tutti gli alimenti al momento della loro introduzione nel territorio dell'Unione e impone dei limiti anche su quelli trasportati nei bagagli. A partire dal 4 giugno, un nuovo volo collega l'aeroporto Marco Polo di Venezia con la città di Smirne in Turchia. Ad effettuarlo è la compagnia Sun Express Joint Venture tra la tedesca Lufthansa e la Turchia Shirlines con due voli settimanali di mercoledì e di domenica. Poi a Smirne è possibile usufruire dei voli in collegamento verso altre nove destinazioni in Turchia. L'annuncio è di Peter Glade, direttore commerciale di Sun Express, il quale dice è difficile superare l'Italia per la raffinatezza della cucina e patrimonio culturale ma i nostri ospiti dall'Italia possono raccogliere le opportunità che smirne definita la perla dell'Egeo ad offrire e possono arrivarci direttamente con la migliore compagnia aerea alle Isure del mondo. Soddisfatto anche Camillo Bozzolo, direttore sviluppo Aviation del gruppo SAVE che gestisce lo scalo di Tessera il quale dice siamo molto felici dell'arrivo della nuova compagnia Sun Express all'aeroporto di Venezia che integra l'offerta del Marco Polo sulla Turchia.